dal punto di vista economico, né dal punto di vista spaziale, né dal punto di vista mediatico. Allora è necessario che, senza perdere la propria identità, ho capito mille volte, sia la propria identità, strumento, scusate il termine, sbaratto, non di sminuimento di se stessi, non di assoluzione per le proprie corte, ma di confronto, di davanto, possiamo dire in maniera più nobile, di reciproco arricchimento. Sia la propria cultura e l'attaccamento alla propria cultura, lo strumento non per isolarsi, ma per arricchirsi reciprocamente, per crescere reciprocamente, in quello che è un cammino che non è più il cammino del mio popolo, non è più il cammino della mia identità, ma è il cammino del genere umano in sé. Perché se io ho lo strumento della comunicazione che mi consente di far circolare le mie informazioni come faccio quotidianamente, in mille aspetti della mia vita,